Il 5G equivale a molto di più di quello che è stata l'alta velocità ferroviaria. Una città che ne può disporre cambierà radicalmente i suoi usi e costumi a partire dalla mobilità ma soprattutto a partire dall'alfabeto di comunicazione. In un minuto si potranno scavicare otto film, si dice, dunque siamo quasi alla talipatia come velocità e il problema è capire chi e come potrà decidere le priorità. Perché una città sì e una no? Può essere affidato solo all'ufficio marketing di questo, quel service provider? La distribuzione nella stessa città, quel quartiere, quella zona, quell'università? Da chi dipende? Probabilmente oggi è il tema per dare alla politica un ruolo, alle istituzioni una funzione e in base a questo selezionare un personale che sia in grado di reggere questa responsabilità. Un piano regolatore della connettività come dimensione pubblica e trasparente degli accessi a quello che oggi è un potere ma deve diventare un diritto. Alla prossima, grazie.